Colorificio Cavese è dal 1988 il tuo riferimento per le piccole e grandi manutenzioni. Lo trovi a Cava dei Tirreni in via 25 Luglio 87. Indignazione nella città di Amalfi dopo quanto visto ieri mattina sulle scalee della Cattedrale di Sant'Andrea che erano state incautamente individuate come location per un servizio fotografico di una modella che ha posato quasi totalmente ignuda, coperta solo da un lungo velo rosso. Incautamente perché lo spazio utilizzato è di proprietà della Chiesa e i responsabili, a quanto sembra, non erano stati autorizzati da nessuno a girare il servizio fotografico in questione ma avevano approfittato dell'orario di prima mattina e dell'assenza dei vigili per poterlo effettuare. Nelle immagini che sono circolate e che hanno suscitato delle proteste si vede una ragazza che sistema il velo alla modella e un ragazzo che scatta le fotografie. Subito dopo la segnalazione i responsabili, tutti di nazionalità straniere, non professionisti sono stati rintracciati e denunciati per atti osceni in luogo pubblico con gli agenti della polizia locale diretti dal comandante Agnese Martignano che hanno diffidato i soggetti dal pubblicare le foto da loro scattate perché appunto vanno contro l'etica del buon costume e al momento l'utilizzo di spazi pubblici per un servizio fotografico ad Amalfi non è regolamentato.